Sì che cosa, fondamentale che cosa, questo straparla. Ma da chi? Dalla loggia P2, da Riccio Gelli, con il sistema delle commissioni, se c'è o meno parlamentari le commissioni non funzionano più e c'è la dittatura. Ma questo straparla, quello non è vero, ci sono interi territori che non avranno più un rappresentante e ci sarà la dittatura contro i cittadini, questo straparla come Di Maio il cervello inesistente, zero su zero. La loggia P2, Riccio Gelli, questo è l'origine della riduzione dei parlamentari, quello che ha fatto Mussolini per fare il ventanno fascista. Ma cos'è che è miria? Il cittadino non viene ascoltato per niente, se poi non è più parlamentare non c'è più la possibilità di portare chi rappresenta i cittadini, questi sono sconnessi il cervello, sono i servi di grillo del miliardario che fanno come il figlio di grillo che ha violentato una ragazza e questi qui se violentano la Costituzione distruggono lo Stato di diritto. Mandiamogli a casa votiamo no. Questi sono sconnessi di cervello. Mandiamogli a casa votiamo no.